Sì, una iniziativa che era prevista a regime per il 2021 e 2022, che hanno deciso di anticipare a dicembre. Fra l'altro sembra che l'iniziativa slitti all'8 di dicembre. Premetto che tutto quello che va ad incentivare il commercio, in questo caso gli acquisti online sono giustamente esclusi, quindi tutto quello che incentiva il commercio divicinato è ben accetto. In questo caso sono dei rimborsi, cashback vuol dire rimborso, che vengono fatti nella misura del 10% sugli acquisti fatti con moneta elettronica presso i negozi. Nel periodo di dicembre il plafond è di 1.500 euro con almeno 10 operazioni effettuate e quindi rimborsi di 150 euro. Da questo lato positivo, dal lato negozi e imprese, noi abbiamo fatto osservazioni sin da subito, nel senso che a fronte dell'investimento che è stato previsto di 3 miliardi sul 2021 e 3 miliardi sul 2022, sul fronte invece oner e imprese l'investimento è minimo ridottissimo. Si parla di 27 milioni per il 2021 e 50 milioni circa nel 2022. Ecco, quindi quello che chiediamo è che ci sia l'impegno da un lato e ben accetto il beneficio, ma dall'altro bisogna che l'onere che le imprese hanno nell'utilizzo della moneta elettronica, che sono oneri veri, costi veri, ci sia l'impegno da parte del governo ad intervenire, ad ammortizzare, ad abbassare questi. Ecco, si parla intanto per quanto riguarda di sempre, l'ha detto lei, 1.500 euro in 10 operazioni, comunque una cifra anche alta che non tutte, magari anche le piccole famiglie, può sostenere. Poi dal 2021 sarà una cosa sicuramente più fissa, a parte appunto in via sperimentale, e anche una cosa per cercare di eliminare o perlomeno ridurre al minimo il contante. Certo, questo è positivo in generale, la riduzione dell'uso del contante, accompagnata, ripeto, da uno sgravio degli oneri che fanno capo ai negozi. La cifra di 1.500 euro prevista per dicembre non è di poco conto, considerato anche i tempi e le difficoltà. Per invece gli anni a regime sono previsti dei plafon di 1.500 euro semestrali, e quindi vuol dire che nell'arco di un anno si arriva a un rimborso massimo di 300 euro. Qui va scaricata un'app sul sito istituzionale che servirà per registrare, nell'app saranno caricate ovviamente le monete elettroniche dei consumatori, e nel momento in cui si fa l'acquisto l'abbinamento con le monete elettroniche dei consumatori già caricate, registrerà automaticamente il rimborso che aspetta. Ecco, in generale quello che noi abbiamo chiesto è, ripeto, un intervento sul piano dei costi delle imprese, perché l'utilizzo della monete elettronica rappresenta ancora purtroppo un onere molto elevato per i negozi. Dall'altro c'è tutto un aspetto generale che riguarda la digitalizzazione delle piccole imprese, e questo è tutto un capitolo aperto, bisognerebbe approfittare di questa emergenza perché nel momento in cui si esce magari ci si possa attivare in un piano di grande portata che dia alle piccole imprese gli strumenti che in questo momento non hanno, quindi anche qui bisognerebbe pensare un attimino con una prospettiva un po' più ampia.